Salve a tutti, come avete visto ho fatto una breve introduzione di filmati realizzati con questo drone, il DJI Mini 2, secondo me uno dei droni più ben fatti dell'ultimo periodo. Adesso è uscito il Mini 3 Pro che in più hanno aggiunto i sensori, la telecamera che si può girare verticale e attenderemo se capita un'occasione possiamo acquistarlo. I filmati che avete visto fanno parte del mio canale YouTube, sempre che vi lascio qui in descrizione. Se volete andare a visitarlo ci sono filmati di laghi, di fiume, di cascate, di borghi tra i più belli d'Italia, in Veneto, in Toscana, in Friuli. E se vi piacciono per cortesia iscrivetevi al canale YouTube così mi aiutate a crescere e poi iscrivetevi anche a Espertone in modo da restare sempre aggiornati se avete voglia di vedere qualcosa o di sapere qualcosa in più. Allora, il drone che io ho acquistato, che ormai sono già passati più di 12 mesi, è questo qui. Non è la versione Fly More Combo, che sarebbe la versione più completa, ma alla fine l'ho completata con i vari accessori. Allora, dovete far conto che il pacchetto che io vado in giro è questo qua, dove ho il mio bel drone, che mi sta tutto dentro su una borsettina portatile, come vedete. Qui ho lo stabilizzatore, sempre DJI Pocket in caso faremo un video. Questo è il drone, questo minuscolo pezzo di elettronica e di tecnologia, perché qui abbiamo 249 grammi su questo drone e avete visto che filmati fa. Comunque adesso vi lascerò anche altri filmati. Come vedete, con protezione per le eliche di trasporto e protezione per il gimbal. Molto importante è sempre lasciarlo su. Adesso, se io ve lo tolgo, per chi non sa come funziona un drone, qui è il gimbal che praticamente è stabilizzato su tre assi. In modo che, quando vado a fare questo movimento qua, che lui accelera, o questo qua, quando frena, oppure giro, destra e sinistra, lui mantiene sempre l'orizzonte. Questo drone viene comandato comunque da un telecomando, che va collegato direttamente al cellulare. Se vi faccio vedere, giriamo la borsettina. Questo è il nostro telecomando. Qui sotto ho i portastick, che vanno avvitati qui. Ok? E poi vado a tirare su questa levetta, in modo da mettere il cellulare qua, praticamente. Tramite il cavo che vedete qui, in questo caso io ho un USB-C, ho colgato il telefono. Il telefono si apre l'applicazione, DJI Fly, e posso guardare dove sto andando col drone. Qui ho le varie funzioni, cinema, normal e sport. Adesso non mi dilungo a spiegarvi come funziona bene il drone. È giusto per farvi capire dove siamo arrivati con la tecnologia, e dove andremo, lo vediamo col Mini 3 Pro. Adesso tocco i joystick. Qui abbiamo le caricabatterie, perché questo porta fino a tre batterie, che ho numerato 1, 2, 3, in modo da fargli fare sempre i cicli continui. Questa è la terza batteria che è la sua strada. 1, 2, 3. Qui collego l'USB-C e posso usarlo anche come power bank, perché qui ho un'uscita. Qua abbiamo, se io l'accendo, il livello delle batterie, come siamo messi. Poi posso andare a controllare sul drone tutti i cicli che ho fatto. E poi abbiamo un aiuto non da poco, che sono i filtri. Eccoli qua. Che adesso, nei vari filmati, vi spiegherò. I filtri, che sono polarizzati, vedete, hanno dei numeri. In base ai numeri, servono quando io vado a fare le riprese. Quindi se c'è tanto sole, userò un filtro, se c'è nemmeno un altro. Serve anche per eliminare tutti i riflessi, soprattutto in mare. Adesso comunque vi faccio vedere, anche al lago per dire. Quindi, che cosa dire di questo drone? Che secondo me, DJI ha fatto veramente un buonissimo prodotto. Sempre stabile. Ha perso solo due o tre volte il segnale. Vicino a una rocca, che era spessa. Io ero proprio aderente al muro. E poi me l'ha perso una volta per interferenza Wi-Fi. Però per il resto, credetemi che io sono sicuro, sono tranquillo con questo drone, perché va molto bene. Va veramente molto bene. Bene, adesso vi lascio dei filmati, che vi spiego anche le varie situazioni di pericolo, diciamo così. Oppure perché ho fatto una cosa, perché ho fatto un'altra. E poi, ditemi voi, la vostra. Come vedete, in queste immagini bellissime, di Lazzise, nel lago di Garda, in provincia di Verona. È una giornata luminosissima, perché è una bellissima giornata di fine ottobre, con un caldo impressionante per la stagione. Il problema è che quando c'è troppa luce, quindi anche le case bianche, il lago, l'acqua stessa, riflette la luce. In questo caso io ho usato un filtro, che è un 16. Se avessi avuto un 32, sarebbe stato meglio. I filtri servono, appunto, come vi dicevo prima, per togliere i riflessi e per non bruciare l'immagine. E secondo me, anche qui ha raccolto delle immagini veramente perfette. Se poi riuscite a vederlo su una TV in 4K, con un bel monitor grande, un 65-55 pollici, magari OLED, ancora meglio, vi rendete conto della qualità che ha questo drone, che è veramente impressionante. Qui siamo a Malcesine, una zona sempre ventilata, tanto ventilata. E vedete anche la bandiera, dalla bandiera come si piega, quanto forte era. E nonostante tutto, il drone comunque manteneva l'immagine sempre stabile, non faceva nessuna piega. Bene, avete visto i vari video, quindi adesso andiamo a tirare le conclusioni. Allora, questo drone adesso è in offerta, fino a stasera, tra l'altro. E quindi quando vedrete il video sarà già finita l'offerta, ma penso che dopo quello sarà il prezzo, perché è sceso da 5,99 a 4,99. E che dire, avete visto i filmati, avete visto la risoluzione, avete visto come funziona. Secondo me non siamo a livello professionale di sicuro, però se voglio portarmi a casa un buon video e se voglio portarmi a casa delle belle immagini, dei bei ricordi, il drone è un punto di vista completamente diverso da quello che di solito lo vediamo noi col cellulare o quello che noi... L'unica pecca è che stanno sempre di più limitando i voli. Nei parchi naturali non si può volare, qua non si può volare, di là non si può volare, e però tutti quanti possono filmare col cellulare. Dispiace perché non possiamo fare quello che vogliamo. Dispiace perché ci sono alcuni paesi che non possiamo proprio registrarli e portarceli a casa. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, se sono stato utile iscrivetevi al canale, iscrivetevi ai canali, quello di Carbonera.Lorenzo e il canale di Espertone. Aiutatemi a crescere, poi attivate il tasto delle notifiche, da una parte per sapere le ultime novità, dall'altra parte per vedere altri filmati dei borghi più belli che abbiamo in Italia, dei paesaggi belli che abbiamo in Italia. Io mi sento solo fortunato di vivere in Italia per tutto quello che possiamo vedere e tutto quello che possiamo mangiare e bere, perché abbiamo tutto in fin fine. A volte è inutile lamentarsi. Bene, scusate Pippone, arrivederci e grazie.